Buongiorno e ben ritrovati. Nuovo appuntamento con la linea per approfondire i temi del giorno. A Kremna in Polonia vicino al confine con l'Ucraina nel cimitero di guerra restaurato nel 1990 dal 54esimo reggimento di difesa nazionale della Stiri ad Austria è stata deposta una corona dall'oro dai presidenti dell'associazione Progetto Grande Guerra di Trieste e Milita Historical Center di Udine. Qui nel 1914 fu versato il primo tributo di sangue alla Grande Guerra. Morirono soldati italiani e non solo. A rendere omaggio alle vittime anche il presidente del Consiglio regionale Zanin. La presidenza del Consiglio regionale a Kremna in Polonia per, se vogliamo, restituire se non l'onore sicuramente il ricordo di uomini che qui hanno combattuto ed erano uomini italiani. Qui si svolge un'importante battaglia tra l'impero asburgico e i russi. Qui noi troviamo i corpi del 97esimo reggimento Jager, austrico di recludamento Trieste, Gorizia e Slovenia. È importante questo luogo soprattutto per ricordare questi italiani che sono caduti per l'impero asburgico. Per loro era la loro patria, ma per noi oggi ha significato importante. E aggiungo anche che questa è una serie di eventi per commemorare tutte le nazionalità che hanno combattuto nella prima guerra mondiale. Non solo l'impero asburgico, non solo gli italiani, ma i francesi, gli americani, i cinesi, i giapponesi, i russi. In questa terra del Friuli Venezia Giulia si è svolta questa grande guerra evocale dove sono stati coinvolti tutte le nazioni. E qui noi vogliamo, in agosto, se è possibile, commemorare tutti. La nostra associazione, insieme anche all'Associazione dei Militari Storici di Udine, fin dal 2014 si è interessato al progetto Grande Guerra. Ovviamente abbiamo portato una mostra, abbiamo portato altre testimonianze in tutta Italia, nelle scuole, nei siti istituzionali. Mancava un tassello, cioè la pacificazione in pratica con quei poveri fratelli che sono morti, come diceva lo scrittore Rumice, perché avevano una divisa diversa. E questo qua. Noi, dopo 108 anni abbiamo voluto colmare, se possibile, questa lacuna. È un segno di rispetto, un segno di onore venire qui a portare la solidarietà a questi soldati che hanno vestito una divisa diversa, ma non per questo meritano l'attenzione, il ricordo, la compassione da parte delle istituzioni. E sono molto contento del fatto che proprio per la prima volta un'istituzione, l'Assemblea Legislativa del Consiglio regionale, sia qui a ricordare questi nostri morti, a dare una parola di conforto, a dire che in qualche modo nessuno viene lasciato indietro. È fondamentale questa mostra che abbiamo voluto organizzare insieme appunto alla regione Friuli Venezia Giulia, anche perché la nostra missione qui in Polonia è quella di portare la cultura, i territori, e far conoscere anche una delle regioni più adacenti anche per vicinanza appunto territoriale alla Polonia, per cui molti polacchi sono interessati anche a conoscere questi sentieri della pace, della prima guerra mondiale, che hanno appunto nobilitato anche la memoria storica italiana. Gli scambi commerciali, soprattutto la regione della Mauoposca, la piccola Polonia, di cui Cracoglio è capitale, sono intensissimi. La presenza costante anche di ditte italiane, soprattutto se pensiamo anche alla Fiat, da più di 30 anni è presente sul territorio polacco e soprattutto della regione della Mauoposca, è fondamentale. E poi c'è una grande attenzione a tutto ciò che parla italiano, l'enogastronomia, ma soprattutto anche la nostra lingua e la nostra cultura. Pensate che nel nostro istituto di cultura ci sono più di 1200 allumi che studiano italiano. Oggi riunione della Giunta Comunale di Udine, Isabella Gregorato ha parlato con l'assessore Laudicina in merito ai fondi del PNRR per il sociale destinati al centro di accoglienza per Senzatetto nella vecchia caserma di Vigilfuoco, in via Cussegnacco. Un saluto da Palazzo D'Aronco, dove si sta svolgendo la conferenza stampa per illustrare le decisioni assunte oggi dalla Giunta Comunale di Udine. Con noi l'assessore al bilancio Francesca Laudicina per parlarci di iniziative che riguardano l'utilizzo di fondi del PNRR. Questi fondi sono destinati a interventi sul sociale, individuate due aree di intervento. Sì, si tratta appunto della definizione di due spazi immobiliari che ricadono sul comune di Udine, che comunque ha scelto queste linee di finanziamento e persegue queste finalità insieme naturalmente con l'ambito territoriale e quindi è un lavoro anche in sintonia con altri colleghi di Giunta, tra cui appunto l'assessore Giovanni Barillari che si occupa dei servizi sociali. Abbiamo definito quali sono gli immobili su cui andranno fatti questi interventi. Interventi che vengono definiti cosiddetti housing first e interventi a favore degli anziani non autosufficienti e interventi anche cosiddetti come la stazione di posta. Allora, housing first, cioè la creazione di appartamenti a favore di persone che si trovano in situazioni di completo disagio, cioè senza dimora, perché possono avere un luogo in cui stare e contemporaneamente seguire un percorso anche di riabilitazione, di ricerca, di una collocazione all'interno, insomma, una collocazione nuova nel mondo del lavoro e quello che era l'immobile chiamato ex CISM che si trova in via Urbanis e lì troverà poi spazio anche, diciamo, buona parte a favore anche degli anziani non autosufficienti. La seconda linea di intervento è quella che riguarda la creazione del cosiddetto stazione di posta che è una, diciamo, verrà fatta in via dei vigili del fuoco, esatto, di via Cusignacco e lì si creerà invece un punto sempre per persone senza fissa dimora in difficoltà ma un punto, diciamo, giornaliero quindi un punto dove potranno trovare da dormire, trovare un punto per la ristorazione, eventualmente anche un presidio sanitario ma nello stesso tempo anche lì iniziare un percorso eventualmente di reinserimento anche nel mondo del lavoro. Quindi, diciamo, un intervento che riguarda il sociale a 360 gradi che viene fatto con gli altri comuni perché, diciamo, insieme certamente, insomma, si ottengono risultati migliori. Il tutto per un importo di? Allora, diciamo che l'Housing First ha un importo totale di 710 mila euro. L'intervento per quanto riguarda l'autonomia degli anziani non autosufficienti è 2 milioni 460 mila, l'importo invece riguardante la stazione di posta è 1 milione 90 mila. Bene, ringraziamo l'assessore Francesca Laudicina, restituisco la linea allo studio e vediamo se successivamente dobbiamo ritornare a collegarci qui con il Palazzo d'Aronco. Grazie, grazie Isabella Gregorato. Ora andiamo a Pordenone dove sono terminate le opere che hanno rimesso nuovo gli uffici della Giudice di Pace. A breve i locali potranno essere utilizzati per le cause. Gli stabili del Giudice di Pace a Pordenone appena restaurati sono stati consegnati dal Comune al Tribunale. Nello storico edificio è stato conservato l'originale aspetto architettonico, ma dal punto di vista strutturale, grazie a sistemi innovativi, sono state rinforzate le pareti, i solai e le coperture, adeguandoli alle norme antisismiche. Sono state realizzate le opere per il superamento delle barriere architettoniche. L'alta tecnologia utilizzata per gli impianti di riscaldamento, di raffrescamento e per il fotovoltaico ha elevato la qualità del risparmio energetico. È un intervento importante che è stato portato a termine e che permette di poter avere una struttura nuova ed efficiente a servizio della nostra città e di tutta l'utenza. So perché, essendo anche avvocato ed avendo passato molti anni all'interno di questo edificio, quanto c'era bisogno di una ristrutturazione per mettere a norma l'edificio, ma anche per poter utilizzare spazi più comodi, sia per i giudici di pace, che per le cancellerie, che per l'utenza e per gli avvocati. Quindi un importante risultato di cui siamo contenti. Al piano terra sono state realizzate strutture per ospitare le paratie, per fermare l'eventuale acqua alta, come a Venezia, e in caso di allagamento l'ascensore automaticamente sale al primo piano. All'esterno sono state realizzate le scale di sicurezza e un collegamento pedonale con il vicino tribunale. Il recupero dello stabile ha comportato un costo di 2 milioni e 400 mila euro. È un momento importante. Riceviamo in consegna dall'amministrazione comunale questo immobile, che sarà un elemento di ammodernamento della giurisdizione e del servizio giustizia nella provincia di Pordenone. Per questo devo ringraziare l'amministrazione comunale, che è stata sensibile alle richieste fatte già dal mio insediamento di ristrutturare l'immobile originario. La ristrutturazione è stata fatta velocemente ed è molto funzionale. Questo dovrebbe consentire di trasferire tutti gli uffici del giudice di pace e alcuni uffici del tribunale. Quindi una nuova struttura che è moderna, efficiente e speriamo che possa essere a disposizione dell'utenza molto presto, perché ci sono degli adempimenti burocratici da fare col Ministero in modo da arrivare rapidamente a cominciare a lavorare in questo stabile. Siamo in chiusura. L'informazione è tornata in diretta alle 16.30. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie.